Ah weee amici e non di PES fan club Italia soprattutto i non non ce ne scordiamo allora ragazzi e anche oggi non si scioppa cioè nel senso non carichiamo una mazza anche perché ho visto da altri youtuber grandi o piccoli che siano io sono le 16 e 25 mi sono appena svegliato ho iniziato la settimana santa a lavoro cioè il turno di notte quindi stamattina ho avuto da fare un po di commissioni ho dormito e mi sono appena svegliato allora ragazzi state ben attenti prima di tutto salutiamo i ragazzi admin del nostro gruppo PES fan club Italia Marco Arcani, Angelo Bove e Demis Boscherini detto Dead Crypto su youtube saluto i fedelissimi che ci salutano sempre i piccoli noi youtuber da Chris Martin, Lagorob 91, Bloodborne 92 Ita come sono sempre loro e volevo ricordarvi che Konami ho scoperto e nessuno l'ha detto che è una grandissima figlia di Indrocchia allora prima di tutto ci prendiamo queste qua e le andiamo subito a girare come anche le monete che già avevo accumulato quindi 0 euro quella figlia di Indrocchia di Konami che ha fatto? ah qua c'ho ancora da prendere sta minchiata la donna che si andrà a fare pure lui le sim e andrà a fare sub di Kinotida che ha fatto Konami ma sapete perché nessuno l'ha detto eh che bella visuale questa qui che è praticamente figlia di Indrocchia che non si è altra qui ha messo due pur che durano sapete che io giro il lunedì il GP sto vedendo chi cazzo sa che potrebbe servire guardate durano per due giorni e qualche ora idem qui praticamente hanno messo il pool sia GP che ora deve vedere con i giocatori in risalto per fare la Copa Cianici che poi devo capire con quale criterio fino a giovedì giovedì metteranno altri agenti con monete GP altri agenti speciali guardate due giorni durano quindi non metteranno né di qualche aveva detto loro tra Spagna, Italia brutta figlia di puttana non fai più settimanalmente fai come il camionato ogni tre giorni chi è da merda allora lui si andrà a fare i Kinotida visto che abbiamo le monete gratis ci facciamo tre giri quattro giri qua iniziamo da sta cagata adesso diciamo quello che vogliamo ma tanto alla fine non li userò adesso sto convertendo tutto e adesso lo avevo appena convertito Pickford andasse a fare i Kinotida Buckley ma che cazzo me ne faccio Kiwi, Idep, Sancio, Cielo ma Cielo tutte le tricce viene Cielo diverso da quello che danno qui qui in parchi alla politica ho giocato le chiavi io ce l'ho viceversa Stellin ce l'ho normale ma è qui madonna me che in cielo quello 96 97 questa è di 98 già so che darà Pickford Buckley e adesso scopettiamo però dobbiamo fare se le charge o l'anime bastano tre giocatori devo registrare subito poi al massimo più tardi registro una partita perché devo mangiare devo fare la barba mi devo un po' sbucciacchiare che ho detto io ragazzi? eh? che ho detto io? è il primo l'abbiamo indovinato ok Konami vatti a fare l'esempio amore mio mannaggia che dà chiacca davanti quanta sei pezza di merda per non aggiungere altro quanto sei pezza di merda ah almeno uno l'ha dato di quelli che non ho perfetto stelle maronna mia vabbè le tracce ovviamente 97 91 92 blocchiamo le spazze casi nella rete avanti ultimo giro in Iguilterra ragazzi quando si sveglia purtroppo poi c'ha disabolito un po' tutto fregato con quest'ultimo di merda ovviamente il terra con questa nuova schermata di Konami e no vabbè darò vabbè vabbè lui che volevo la Sterling il resto vai a fare i Kino ti va e neanche a te lo darò pezza di merda e qui vi dico quelli che voglio ovviamente non mi li darà mai ovviamente a caccia sempre di De Ligt che mai mai tutte le volte che l'ha messo zero ragazzi il resto non voglio nessuno ma forse Van Dijk qualche 96 questo 97 mi sa e da Young ce l'ho già che non uso mai il resto che bro di caffà ma giusto che sono monete gratis eh se no col cazzo glieli dà ogni giovedì metterà una gente ovviamente andai in Olanta con questa nuova sminchiata di visuale questo è già un nuovo downfist che ce l'avevo normale ma mai usato mi sa e tra C 90 di velocità e schifo a defender lo blocchiamo hai visto vai avanti e fai una cosa buona ma cerchi chi ha girato la russia mamma mia raga fatevelo dire veramente almeno io porto le challenge online però girare la russia dai raga e dai si 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 tsi shoooo fa mok a mama ma deve questa è pure letta anche la titolare nella mia squadra ora ve la faccio vedere e vai cazzo amore mio amore mio ma fangula con ma vabbè che da scassata gula ragazzi vi ringrazio veramente di cuore ma stiamo raggiungendo quota mille bandico vandic ma è raga che cazzo vedevo di è che vedevo di raga è un bucio del culo è un bucio del culo anche finalmente vandic 90 di mortacci sua di suo nonno vabbè le tracce sicuramente ho bloccato vandic ragazzi via andiamo a farlo subito via 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 ciao finiti ah poi ci giriamo qua in pool un po facciamo due giri qua a sto punto lo sapete i gp non devono un cazzo più ormai non danno le gente non danno un cazzo spagna palanera per forza vendi di nuovo però dare qualche leggenda in mezzo a qua niente madonna mia giro sapete per avere qualche giocatore nel sim più che altro e tanti gp ormai con le leggende come vedete le cose sono solo coso la al spagna si vabbè non vedete le magliette perché è tutta a capocchia ok vabbè e poi ti siamo un po' di meditatici un po' di cosina ma che cazzo vedevo di ovviamente sarà buriundi calisca trequattisca venticinque anni media attune a fare in culo ultimo giro poi rimaniamo sempre sui 300.000 gp fino a giovedì penso che puoi girare non lo so forse da giovedì si può ritornare a girare con i gp allora c'è che finiranno tutti i gp adesso palavone anche la palana cd mina accandante portiere difensivo ottimo vai a fare in culo pure tu veloce ok ragazzi abbiamo fatto i soliti 4-5 giri con i gp come vedete a merita e tutto il resto beh direi che per a meno per oggi basta però andiamo a fare una cosa dove stai dove stai la 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 allora io c'è il 97 però penso che cambia poco di bala sta crescendo sance sta crescendo faccio vedere le lettere così fino a giovedì rimangono queste lettere vediamo allora qualcuno l'abbiamo già cominciato a convertire questo è il mio 96 ok quante partite doveva fare questo 4 ma vai a fare in culo allora 1 no allora facciamo così mi sembra abbiamo fatto una minchiata ahia ci ho visto bene vedete il tuo sancio normale l'ho detto che non l'avevo boccato taci tu e tu nonno uffa ragazzi un attimo sto facendo un cazzino della madonna lo so perdonati blocca mochi allora poi eh lo so però 1 e 2 no e 2 sblocca ma cante ah e anche questo scusate uff is che c'è l'ho block uffa a a Ciao. Ok, ho fatto questo. Tacitua di tu nonno. Allora. Allora, perché ho fame, raga? Sterling su Sterling. Dove sta? Qua agli da 7.000. Puzza. 40.000. Tacitua. Vai, vai, sali, 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 sali. A me lo comparto me di penticiali. Chissà. 167, ma quanto se li dico? Minchia, ancora 9 livelli. Esa, chiccio, esa. Vabbè, niente. Vabbè, oh, come? Non male, eh? Ok. Poi. Delizio, delizio. Fammi ritornare a meno a quanto era prima. Minchia, 13.000 li dà già qua. E sta a 12 livelli. 13.000. 31.000. Però. Già, già a meno a un livello in più rispetto a quello che avevo prima io, che era 95. Sali, sali, sali. Sali. A me, vedo un delizio 96 invece del club. Minchia, 44 livelli. Chi cazzo ti deve far crescere? Dove sta l'altro animale? Animale? Qui. Qui. Qui dà 7.000. Quanto è strano sto gioco. 18.000. 96. Vabbè. Pazienza. È ritornata a quello di prima. Quanto è che vuole? Centro Van Dott pure qua. E panderà tutto gratis, ragazzi. Quindi. Che gli ha dato. Vabbè. Vai. Vabbè. Sarà duro farli crescere. L'altra pippa era questo. Ma andrà a fare i chinotti subito. Tanto che cazzo ma ne ha fai. Proviso che ce l'ho. Cioè mi dà qua 600.000 sei pezza di merda. 29.000. Noi stiamo finendo di crescere. Certo A che è la lettera A. Ti è. Ok. Un altro bello livellino. Mi manca due livelli. Tre livelli. Finiamo con questo, ragazzi. Sistemiamo la squadra. E vi saluto al prossimo video. Video breve oggi, ragazzi. A portare di una gente, una gentina. Ma gli darà una mazza. 900 doci. A Bukini e Ima Amade. Beh, ragazzi. Che dirvi. Sistemiamo la squadra. Sto giocando senza di posizione avanzata. Sto giocando senza di posizione avanzata. Ragazzi, vi devo dire che sono ritornato a 8.97. Dopo 8 vittorie di fila. Ho perso due partite di fila dopo. Giuro. Non sto scherzando, eh. Ve lo posso far vedere. Allora. Sistemiamo la squadra. Vedete, delete. Mettiamola qui. Nether. Rinnoviamola. Tant. G.P. Li facciamo subito. Ah. Giustamente. Dobbiamo fare i giocatori di salto. Quindi tu vieni qui. Ecco qua. Tant. Gestionale. Tie. Abbiamo fatto salire. Allora. Abbiamo appescato. Allora. Tu rinnoviamo. Maldini. Ovviamente. La bestia. E vieni qua. Curto a titolare. Fino a quando giovedì abbiamo queste letterine. Quindi abbiamo. Abbiamo detto. Questo bel talo. Ma che bello questo bel talo. Ah. Interessante. Allora ragazzi. Allora. Che cazzo abbiamo pescato. Sterling. Giusto? Big Ford. Allora. 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 Van Dyck. Delete. Downfriis. Che cazzo me ne ha fai Sterling. Quindi Sterling. Titolare. Dove sta? Eccolo qua. Lo mettiamo a posto di Aguero. Perché Sterling. Se lo mettiamo P. 92. S&P. Vabbè. Come sono tutte le tre belle apiccione. qui possiamo togliere questo e ci mettiamo un bel ciccì. che pure piccchia da via. I tedeschi stanno finendo. Anzi hanno finito. Tutti i GP via legalati. 95. Perché 95? Ah sì. Andiamo a sistemare qui. Questo DC. Del Piero. SP. Tu qui. Capo. DC. Perfetto. Tu qua. Ok. Perfetto. Andiamo a vedere se sei pronto per la challenge. Se ho capito bene. Sfida di oggi. Qui le classiche partite contro Com. E qui la challenge online. Ok. E abbiamo. Come avete. Come ho detto prima. Delete. Minchia. 96. 44 livelli. Bandic. E Sterling. E sa Sterling. Ok. Mbab. Detali di competizione. 4 punti. 3 partite. Ok. 21 GP. La seconda. 500 GP. E più questi qua. Babbo. Esci. Vi dico. Faccio vedere che non dico puttanate. Allora. Vedete. Sono a 8 e 79 adesso ragazzi. Vedete la. 87 punti di settimana. E 214. Allora. Ho perso. Guardate poi. Ho vinto. Poi ho perso 2 a 1 con questo. E 5 a 2 con questo. Poi avevo vinto. Avevo vinto. Avevo vinto. Avevo vinto. Avevo vinto. Avevo vinto. Ero a 8 di fila. Raga. 8 e 97. Ho detto. Prova a non registrare. Almeno mi porta fortuna. Per arrivare a 900. Vi volevo fare una sorpresa. Mang. Puccazza. Lasciamo a perdere ragazzi. Purtroppo è così il gioco. Beh. La squadra si. Sta andando bene. I GP. Mi li fa accumulare. Raga. Che dici. Ci vediamo dopo. Adesso devo mangiare. La squadra l'abbiamo fatto. Occhio ragazzi. Si spacchetta fino a mercoledì sera. Poi giovedì. Vi schiestiamo. Glielo do questo. Quanto cazzo c'è Donnarumma? 94 Donnarumma. Giovedì ovviamente. Metteranno i giocatori. Penso il risalto. Più giocatori. Altre nazionali. Più GP. Più monete. La bocchina da mamata. Allora. 3.000. Mamma mia. Questi due. Come cazzo faccio? A non darne almeno su Van Dijk. Pezza di merda. Di Konami. Veramente. Per farli crescere. Sarà un casino. Un casino. Tiè. Questo. Questo. Come da. Tiè. Ah. 98. Ma che cazzo vedevo lì? 98 dai. E questi 3.000. Mi stanno tra la mente sulle palle. Che gli do a lui. Dove sta? Tiè. Tutti e tre. Uno. Due. Tre. Beccati questo. Rimane sempre 96 dai. Per salito. Elevazione. Aggressività. Finalizzazione. Passaggio. La sua terra. Beh raga. Video breve. Mi raccomando. Raggiungiamo i 1.000 iscritti. Che se qualcosa ad agosto. Se vado in ferie. E qualcuno sarà in casa. O con il telefonino. Tanto ormai. Avete tutti i mezzi per vedere le live o i video. Ci sarà una sorpresa. Babbo. Grazie a tutti ragazzi. E voglio ricordare a quelli che vengono a fare di più sul nostro gruppo. Ve lo diciamo per l'ennesima volta. Noi. E io sono un promotore di questo. Lasciamo libertà assoluta nel dire. Commentare. Criticare. Tra pareti. Soprattutto. Mamma. Konami. Però l'importante è che non offendete. In che senso. Sì. Va bene Nico. Ma tu offendi quando giochi. Babbo. Mi piace la calza ragazzi. Quando ci si gioca. Stai là. Registi. Non è facile. È come quando io ho giocato a calcio. Nel campo. Che andava a dire. O veniva. Ti veniva a dire di tutto. Però almeno non offendere. Non fargli di più. Non. Io conto fino a tre. Parti il candavo. Ti mando a fare in culo. Ti caccio ovunque. Forse non l'hai capito. Io come. Gli altri colleghi admin. Noi siamo diversi dagli altri gruppi di PES. E non ne vogliate. Soprattutto per questo. Potete. A qualcuno ero del culo. Siamo il gruppo di PES. Di Facebook. Che è il più. Il più visto. Il più. Criticato. Quello dove vengono. Ogni minuto. Ogni ora. Dette. Fatte. Scritte. Commentate. Postate di tutto. Vi dà fastidio? Andate a rompere i colli. In un altro gruppo. Che sapete. Tanto là. Non durerete neanche mezzo. Mezzo minuto. Quindi a noi siete libri. Di fare quello che volete. Però se cominciate a offendere. Cominciate a prendere il culo. Lo sapete. Io vi mando a fare in culo. Oppure lì. Ciao ragazzi. Alla prossima. E vi voglio bene. Mi raccomando. Arriviamo ai mili iscritti. Eh? Beh. Io non ho fatto. Non ho fatto come gli altri. Non ho amici. Stretti. Non ho familiari. Non ho parenti. Non ho nessuno che ho fatto iscrivere sul gruppo. Su YouTube. Se non sarei già arrivato a mille. Sono solo iscritti dedicati a PES. Perché io porto solo a PES su YouTube ragazzi. Ok? Perché vi ricordo di arrivare a mille? Così posso postare anche a mille iscritti. Foto. Fare un... Non lo so. Una comunicazione. Posso fare la diretta con il telefonino. Cosa che adesso non posso fare. Una diretta. Quindi tipo uscirà a PES 2021. Accendi telefono. Faccio la live. Che sto, non lo so. Per strada. In macchina. E vai. Non la posso fare se non hai mili iscritti. Purtroppo è così. YouTube. Alla prossima ragazzi. E ricordatevi sempre. Che mamma Konami. Era. È. E sarà sempre più figlia di Indrocchia. Occhio. Occhio Konami. Occhio. Ciao ciao. Ciao.